Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per traffico, troviamo coda tra BV1 Variante e Calenzano verso sud e in carreggiata opposta tra Incisa Reggello e Firanzo e sud tra Calenzano e BV1 Variante. Infipili 4 km di coda per tratto chiuso, adesso riaperto, tra Empoli-Est ed Empoli in direzione mare. Per lavoro inoltre restano rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Navacchio per chi viaggia in direzione SGC Firenze-Rivorno. Prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo che la circolazione sarà sospesa sulla linea Pisa-Lucca dal 30 luglio al 7 agosto. Il provvedimento si rende necessario per consentire la demolizione da parte del gestore stradale di un cavalcaferrovia in località Ripafratta. I collegamenti tra Pisa e Lucca saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus, ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Petropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!